C'è un'intera necropoli qui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il cavaliere è vicino, è potente e non è solo. Ma questo cavaliere ha la chiave per trovare la tomba. Dobbiamo distruggerlo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Questa è la chiave per la tomba. Bene, so dove stiamo andando. Dovrebbe condurci dritti alla tomba. Dovrebbe condurci dritti alla tomba. La tomba del mondo, non la nostra. siamo capiti. C'est parti. 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 C'est parti.